nome joseph renato cognome valer tasin età 37 anni 50 anni professione impiegato presso le acri di tantine imprenditore sindaco di nave san rocco zambana da quanti anni fa il sindaco da maggio 2015 da un anno poco molto moltissimo com'è cambiata la tua vita da quando fai l'amministratore molto nel senso che comunque ha comportato delle variazioni a livello professionale quindi insomma cambiato un po lo stile di vita diciamo che la mia vita non è cambiata più di tanto perché insomma sono stato parecchi anni in amministrazione per cui sia da assessore che da consigliere comunale per cui credo che insomma il sistema lo conoscevo faticosa impegnativa interessante quali di questi aggettivi useresti per definire la tua esperienza di amministratore impegnativa perché comunque se si vuole essere sul pezzo delle cose occorre impegno e dedizione però se si è un po anche interessante perché è un'esperienza che ti dà la possibilità di stare a contatto con la gente di imparare anche tante cose nuove credo che questa esperienza sia interessante perché ogni giorno c'è qualcosa a scoprire per cui è un valore aggiunto non solo per quello che posso acquisire io ma anche per quello che noi amministratori potremmo dare alla nostra comunità la rifaresti sì o no sì sì quali sono le maggiori difficoltà che riscontri nella tua vita amministrativa riuscire a dare risposta alle persone spesse volte le problematiche che arrivano sono diverse complesse e riuscire sarebbe bello poter aiutare tutti da una risposta positiva a tutti ma tante volte per via dei normativi o per via delle situazioni non è possibile le difficoltà sono molteplici in primis la macchina amministrativa la burocrazia questa insomma un po noi anche nel nostro mondo da imprenditori siamo abbastanza volatili qua insomma bisogna avere un po di più di pazienza però insomma tutto sommato questa è la causa principale che insomma un pochino speriamo in bene che si possa arrivare a realizzare delle cose dei contenuti in tempi brevi che la burocrazia non faccia la prodona parliamo di fusione perché si pensa ad una fusione dei comuni di nave san rocco e zambana perché fondamentalmente è importante in questo contesto di crisi e di cambiamenti sociali economici cambiare quella che è la nostra visione di amministrazione locali e unire le forze può essere sicuramente vantaggioso per dare delle migliori risposte ai cittadini questo penso sia anche l'intento della legge della regione di unificare i comuni e quindi di avere maggiori economicità e maggiori risparmi ma proprio anche per dare migliori servizi e essere più vicini alle persone perché in primis ci sentiamo la responsabilità come amministratori poi siamo una comunità due comunità abbastanza simili ci un paese e anche per quello di nave un paese rurale per cui abbiamo molteplici cose che ci accomunano e non sto a elencarle però credo che questo sia il primo punto di incontro anche perché questo sarà un passaggio epocale e bisogna uscire dagli schemi e diventare amministratori con il proprio senso di responsabilità e di vedute anche non solo nei piccoli comuni ma uscire da questi schemi di territorio. Come vi state muovendo come amministratori? In questi mesi abbiamo fatto un percorso condiviso con le nostre giunte con i nostri consigli comunali in cui abbiamo affrontato la questione e abbiamo parlato con la gente attraverso gli incontri e soprattutto adesso verso il referendum del 22 maggio avremo modo di incontrare tutta la popolazione con incontri specifici e tematici proprio per spiegare e portare insomma la visione che ha motivato le scelte delle due amministrazioni di portarsi i due comuni a Fusomi. Noi come amministratori siamo partiti come consigli comunali promuovendo diciamo e cercando di capire quali erano le nostre volontà e i principi abbiamo fatto degli incontri tra di noi molteplici e nello stesso tempo adesso stiamo comunicando con le persone di fuori della comunità perché nella parte amministrativa si svolge all'interno del comune ma credo che le maggiori cose siano all'esterno per cui incontri. Se ci sono quali sono i vantaggi derivanti dalla fusione? Ma i vantaggi sicuramente sono legati al mettere insieme le forze e le risorse e quindi poter prevedere uno sviluppo futuro e avere delle prospettive migliori per le due comunità. Dopo è chiaro ci sono tutta una serie di vantaggi legati a quanto dice la norma dal punto di vista economico legato all'organizzazione personale e quant'altro. Allora i vantaggi praticamente noi avremo dei vantaggi non immediati ma nel tempo. Sarà una cosa graduale le due amministrazioni e anche le strutture verranno ridotte soprattutto come struttura pianta organica sarà una cosa graduale ma man mano che arriveranno al tempo della pensione questi saranno anche i primi risparmi che avrà la comunità per non citare le assicurazioni tutto quanto il contesto che diventerà una struttura unica funzionale. Credi che la qualità dei servizi possa risentirne? No penso anzi che possa migliorare nel senso che la riorganizzazione che ci portano al comune potrà dare risposte più efficienti, ampliare l'offerta dei servizi e migliorare anche la tempestabilità cercando di essere ancora più vicini e più attenti ai bisogni dei cittadini. Io credo che sia un valore aggiunto mettere assieme queste sinergie di persone qualificate di competenza e per cui credo che sia un aspetto positivo. L'alternativa è la gestione associata obbligatoria di tutti i servizi magari con altri comuni della Rotagliana. Credi che questa sia una valida alternativa alla fusione? L'abbiamo valutata però in questo momento viste le condizioni in cui siamo, la situazione eccetera non ci sembrava la soluzione ottimale. Abbiamo preferito di gran lunga la fusione che dava migliori garanzie e migliori opportunità per i nostri due comuni. All'alternativa alla gestione associata noi non l'abbiamo accolta bene perché crediamo che il servizio che possa dare la gestione associata al cittadino sia dispersivo anche perché il nostro ambito sarebbe dislocato su quattro comuni per cui diventerebbe difficile per i cittadini interagire con le varie strutture. Per cui noi siamo per la fusione. Cosa cambierà materialmente nella vita quotidiana dei cittadini se si procede alla fusione? Materialmente penso poco nel senso che i cittadini troveranno comunque nelle due frazioni degli ex comuni, i servizi, le risposte, anche la presenza degli amministratori e quindi di fatto poco. Penso che potrà cambiare in meglio, come dicevo prima, le tipologie di risposte e un'efficienza migliore dei servizi. Per i cittadini sostanzialmente niente non potrà cambiare, anzi avrà la possibilità di avere più servizi e anche se facciamo un esempio io credo che, se possiamo entrare un po' nel merito anche nelle fasi esecutive, io credo che il cittadino anche per venire a fare una scia non è che si debba muovere lui ma in questo modo ci sarà il tecnico che verrà all'interno del comune. Per cui credo che fondamentalmente non gli possa cambiare più di tanto la vita. Avrà un beneficio come servizio e qualità. Parliamo di caccia, un tema molto sentito. Cosa cambia in ambito venatorio con la fusione? In ambito venatorio cambia poco, nel senso che le riserve di caccia rimangono quelle legate ai due ex comuni di Nave e di Zambana, quindi i gruppi dei cacciatori manterranno le loro prerogative. Sul tema della caccia rimane tutto invariato, questo è già stato scritto anche nella legge per cui ognuno andrà a fare la caccia nel suo territorio e rimarrà invariato come rimarranno invariate sia le posizioni del MIM che le posizioni delle ASUC. E per le associazioni, gli usi e i costumi? Per le associazioni neanche, nel senso che la fusione non vuol dire cancellare la storia, le tradizioni, gli usi delle due comunità. Vuol dire però valorizzarle, cercare magari di creare delle sinergie, di costruire, di unire le forze per magari ottenere risultati migliori e essere più rispondenti ai bisogni anche sociali delle due comunità. Il mondo del volontariato credo che dal nostro referendum, che sarà indetto adesso a breve, e da lì sarà, credo, un confronto fra di loro, però credo che sia una responsabilità, una cosa che nasca spontaneamente da parte del mondo delle associazioni. Da 0 a 10, quanto credi in questa fusione? 10. 9. Sempre da 0 a 10, quanto pensi che i cittadini credano in questa fusione? Allora, dico 9 perché magari qualche contrario c'è, ma spero 10. 8. Chi ruolo avrà la cittadinanza in questo percorso di fusione? Un ruolo fondamentale, nel senso che alla fine il compito nostro di amministratore è quello di formulare una proposta, guardando quelli che sono, analizzando i contesti, guardando quelle che sono normative, confrontandoci, dopodiché l'ultima parola giustamente è data ai cittadini che si esprimeranno con il referendum del 22 maggio. I cittadini sono i primi attori, sono loro i responsabili, nel senso che loro avranno il dovere, il senso di responsabilità anche di decidere se l'amministrazione comunale nella setta che ha proposto è in grado di condividerla. Noi aspettiamo che questa venga condivisa. Lasciamo lo spazio per un ultimo saluto o appello. Saluto tutti i cittadini di Nave San Rocco e di Zambana, invito tutti ad andare a votare il 22 maggio, il giorno del referendum. Votare è una cosa importantissima, è un diritto sacrosanto che abbiamo, è un nostro dovere, quindi invito innanzitutto tutti a recarsi le urne e l'auspicio di invito è quello di votare sì per la fusione tra Nave San Rocco e Zambana che dà la vita al comune di Terre d'Adige. Io credo che questo sia un momento importantissimo per le nostre comunità, è un passaggio che è doveroso e soprattutto fatto per convinzione e non perché le cose sono calate dall'alto, per cui invito tutti i cittadini ad andare a votare e sentirsi responsabili del proprio voto.